Tizzi facciamo gli auguri al Rimini Calcio Facciamo gli auguri al Rimini Calcio ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la tradizione Sport Up Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo E allora andiamo ragazzi C'era una volta la fame, la lode, la voglia di combattere un Rimini cadetta del suo presidente la scorsa settimana in Quelli di Bergamo aveva fatto il cosiddetto punticino salvezza muovendo la classifica ma forse qualcuno a Grassi non ha spiegato che così facendo si va dritti in Serie D Oggi la squadra si dimostra priva di identità frustrata come non mai e per certi versi anche imbarazzante Per fortuna che le chiavi in mano fossero state date a Petrone manco si trattasse di un'automobile ed ecco che a Monza va in scena una delle peggiori ripestazioni in stagione dei Biancorossi Commentiamo una gara di netta padronanza locale a senso unico con la prima azione che perviene al settimo quando Ceccarelli chiama la risposta il portiere Scotti tra conseguente corner in Monza passa Lepore Pennella per Marconi che inscivolata di testa sblocca la situazione per l'1-0 di casa Il Rimini ha una reazione due minuti più tardi quanto Montanari innesca per Volpe il quale fa da sponda per Pincioni che calcia a lato La frustrazione si vede nell'intervento di Alimi quasi da cartellino rosso Benedetto è direttore di gara con la sola ammunizione Più ad un quarto d'ora Lepore mette al centro Scotti allontana con i pugni la palla viene indirizzata nuovamente dopo una scena di carambola verso lo specchio della porta ma Marchetti evita pericoli maggiori con la complicità di Scotti Monza che cerca i gol sicurezza ma la concursione di Ceccarelli si spegne all'atto mentre il doppio tentativo di Brighetti viene ribattuto dalla difesa ospite prima che Ceccarelli spedisca il pallone del 2-0 alle stelle al 26esimo il Rimini rimane addirittura in 10 uomini per il doppio giallo rimediato da Limi la seconda entrata su Reginaldo è davvero scomposta tanto da far indignare in tribuna l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Gagliani a 28esimo corner di Lepore per l'incornata in negro Scotti ci mette i pugni salvando ancora una volta la sua porta a 34esimo però è Monza la doppia Ceccarelli si libera facilmente i montanari lascia partire un sinistro fuori area che rimbalza davanti a Scotti si insacca fin di palo alla sinistra dell'estremo difensore bianco-rosso meritato il replay per il gesto tecnico da parte del giocatore in maglia numero 7 del Monza e meritata anche l'inquadratura per la curva festante a 42esimo arriva la precursione a sinistro di Palazzi con Briganti nell'area piccola che spedisce incredibilmente all'atto da due passi a 45esimo Ceccarelli apre per Reginaldo che si libera e calcia la traversa respinge la sua conclusione il replay non rende giustizia al gesto tecnico dell'ex brasiliano di Parma, Treviso e Fiorentina Monza ha un passo dal 3-0 ma è 3-0 rimandato alla ripresa quando al minuto 62 l'intraversione di Ceccarelli viene incornato perfettamente da Briganti che trova il suo terzo centro di stagione fine dei giochi il Monza trionfa con una netta padronanza il Rimini si mostra assente per tutti i 90 minuti e il verdetto è rimandato verso la Serie D sabato prossimo in casa al Neri contro la San Benedettese la partita da dentro o fuori che qualcuno lo spieghi a tutta la società Le pagelle il migliore per i Monza Ceccarelli i gol da applausi e i dissensi inarrestabili per i Rimini nessun promosso dietro la lavagna mettiamo a Limi il suo doppio cartellino è sinonimo di una squadra frustrata priva di identità mentre a Petrone l'ordo compito di risvegliare i suoi giocatori e di farli tirare fuori anche gli attributi laddove sarà necessario farlo già a partire da sabato prossimo contro la San Benedettese SSRC si vorrà e si vorrà mantenere grazie